Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 335 tra Incisa Reggello e Valdarno. Sempre verso Roma code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sosto Fiorentino. In direzione Bologna tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio. Code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Il traffico si sta intensificando anche in A11 in direzione Firenze tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola e in FIPILIA ancora in direzione Firenze tra La Strassigna e Firenze Scandici. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!